Sì, ho avuto un lungo e cordiale incontro col Presidente Mattarella, positivo, abbiamo portato le idee e le proposte della Lega sulla legge Fornero, che dal nostro punto di vista è un'emergenza, su un'Europa da cambiare, sui rapporti con la Russia da recuperare, sulla situazione in Veneto, dimenticata da molti organi di informazione, però non da noi e non dal Presidente Mattarella, sui problemi di infrastrutture anche al Sud, che ha delle bellezze turistiche incredibili ma irraggiungibili dalla Sicilia alla Calabria, e su quelli che sono i temi cari alla Lega, sulle riforme, su Renzi che non può andare avanti da solo ma deve coinvolgere tutti per il bene dell'Italia, altrimenti salta tutto quanto.